L'Europa è presa di mira sia dall'interno che dall'esterno, l'ha detto domenica ad Atene Hursula von der Leyen, intervenendo alla conferenza del partito conservatore greco Nuova Democrazia. We need to step up European defense spending collectively, but just as war is not a thing of the past in Europe, defense cooperation must be the mark of the future in Europe. Η παρουσία των ηγετικών θελεφών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας κάθε άλλο παρά συγκυριακή είναι. Il presidente cipriota Cristo Dulides ha ringraziato la Grecia perché senza il suo sostegno Cipro non sarebbe diventato membro dell'UE 20 anni fa. Chiudendo la conferenza, il premier greco Mitsotakis ha chiesto che le bugie non facciano parte della campagna elettorale.